ragazzi oggi ho fatto un percorso un po particolare ho fatto un percorso alternativo rispetto sempre quello per andare a comezza dura ma come vi ricorderete avevo fatto un tipo di percorso e se ne ho fatto totalmente un altro e non ha un nome un sentierino e guardate cosa ho scoperto sono bellissimi come vedete ci sono questi due splendidi esemplari sono meravigliosi sono cavalli fantastici guardate che belli che sono fantastici fantastici ecco quello che possiamo vedere in questa splendida vallata facendo semplicemente una minima variazione di percorso tra una strada e l'altra prima volta che passo di qua e avete visto cosa abbiamo trovato sono sono veramente fantastici